5 piani di albergo si trasformeranno in circa 6.000 tonnellate di macerie a visso. Sulle ceneri dell'ex hotel dovrebbe risorgere la cittadella delle attività commerciali del borgo da bandiera arancione che a distanza di un anno e mezzo dal sisme le ultime scosse di aprile non smette di contare le sue ferite. Il palazzone, fermo ormai da 20 anni, dovrà essere bonificato dall'amianto per delle componenti di linoleum nella pavimentazione dei piani superiori e poi demolito. A terra verrà creato un piccolo centro di trattamento macerie e loco che dovrebbe lavorare per una decina di giorni per poi avviare il progetto del nuovo centro commerciale, un investimento da 8 milioni di euro sostenuto grazie anche ai fondi raccolti con gli sms solidali. Spero che venga fatto al più presto, spero che venga fuori un lavoro veramente fatto bene perché significa la rinascita del paese. Qui restiamo da perdere il tessuto o quello che è produttivo del paese. L'area che andranno tutti i negozi, tutte le aree produttive purtroppo va a rilento. A Visto sono in programma ancora 20 interventi sulla parte pubblica trammessa in sicurezza e demolizioni. È uno tra i comuni della provincia di Macerata, conferma il Cosmari, dove vengono prodotte più macerie, indicatore di una percentuale di danneggiamento tra i più importanti. Sull'altro versante invece devono essere ancora consegnate 95 soluzioni abitative di emergenza su 230 nelle zone Sant'Antonio e Cesare Battisti, i ritorni attesi a cavallo dell'estate. Se tutto va bene entro giugno. Purtroppo qui abbiamo la popolazione che ancora è in giro per le marche. Rischiamo di perdere parecchia gente perché purtroppo qui se continuano così va alle calende greche.